ma io è diciamo tutta l'architettura e non è ma i figli non è nascita ma no ma io non mi ci sono delle mani come la sua vera esistente ma lei esiste o è etereo? ecco, rispettiamo la parola ma no non abbiamo Lezioni perché mandato le cose però a Firenze ho detto insomma la giunta appena iniziata a lavorare e disegnata sta percependo il cambiamento. la giunta, non dice la parola stessa, è una giunta, è una oltima giunta, un po' di non più, ma la pazza nel pezzi, le fanno sempre le stesse, la pia in testa, dice tu fai rispetto alla pia, se le stanno più, ma se fanno i muschi, io sempre a cosa chiedi, dai muschi, i pros, tutte le fanno le fie, ma se te le fai rispetto, te le fanno solo, cioè, mi assisti bravi, e mi vengono a me, cioè, che fatti le cose, ho capito, vedi lei vorrebbe manifestare il suo dissenso, perché il senso è questo, non si fa un cazzo, cioè, fai tanto non si è fatto, ma se le fanno la pazza, cioè, che si è fatto, ma se le fanno la madre sulla madre, e sto a tutti i ragazzi, va a far quello che hai, l'adolesso, di la luce, non ce l'hanno lì, ma si sta molto a scatto, ce l'hanno lì, c'è una puntata, ce le dà, non ce l'hanno, ma esiste lì, davvero, c'è mio, te, direttore di rete, no, 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 no. No, 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 no no ok 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 no 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 per no ok Grazie a tutti Grazie a tutti